Ben, veramente non ho quasi le parole, mi emoziono perché ho veramente giocato con tanta passione per questa maglia, un gruppo fantastico, tutto un gruppo di amici, la partita era veramente importante, infatti ho dato veramente tutto a me stesso, partita fondamentale, vinta comunque di gruppo, io posso solo che ringraziare tutti questi cari amici, perché prima che i compagni di squadra sono grandissimi amici, mi dispiace che sia l'ultima partita per non giocarmi l'ultima partita di playoff, però veramente un grande bocca al lupo a tutti i miei compagni e sono sicuro che confesseranno la Serie A. Beh, sicuramente è una competizione che questa squadra merita, perché ci sono tanti ragazzi con grande talento, l'abbiamo già giocata come tu hai annunciato, purtroppo un po' di esperienza, in più ci avrebbe fatto molto comodo, abbiamo peccato in quello, e per quanto mi riguarda io ho tutta una vita davanti a me da vivere, diventerò papà tra una decina di giorni, quindi veramente tutta questa cura da parte dei miei compagni, veramente soltanto che amore e passione veramente che si può vivere solo con questo sport. Grazie.